Partite! Sono 25 questa volta, come ho detto, prima campana a meno 23, poi a meno di pari. Siamo alla prima campana. Prima corrente, 21, 192, primi punto per la remorciata. due punti per vediamo qui siamo alla capa del mio attimo vediamo in testa un terzetto adesso si tratta di un quarto Carlo che prende decisamente il tuo mano vediamo i punti di meno 30 36 152 152 la mia genica mette la numero 36 la mia genica si è ricordata la mia non siamo all'esterno Pirona mi mette la mia genica l'ambiance caught up ma Narelli saluto 136 e 176 9 9 9 8 9 10 10 10 10 11 11 12 176, 152 176, e Iannanemi che prende il culo, che passa il 3 152, e il culo è il culo 186, 152, e il culo è il culo 186, il numero 172, prende 2 punti nel primo schermo il numero 8 per la miglia, e prende 1 152, il culo è il culo tutto ancora in gioco, abbiamo ben 8 punti 8, 33, il culo è il culo il culo è il culo sotto bene 10, 176, 36 quindi 2 punti per Iannanemi che va a 5 e un punto per il culo è il culo 36, il culo è il culo il culo è il culo è il culo è il culo il culo è il culo è il culo il culo è il culo è il culo ovviamente sono tutte vicinissime, basta un traguardo a punti per mandare in prima condizione un'altra ripresa e vediamo i punti del 6 e Medora Giulia che prende il 21 quindi 21 e 176 quindi due punti per Medora Giulia che va a 6 per la Ia da Reggio che va a 6 i piedi per il 22 e le persone sono appagiate con 6 punti la parate meno 5 il primo sembra muoversi dietro a Medora Giulia vediamo se riuscirà a fare anche i punti di mano 4 la parate meno 5 la parate meno 5 21 e 176 un punti meno lì per il posto un punto a Yannaretti che va a 7 si ricampaglia il 1 e la parate meno 5 vediamo in questo momento in questo momento in questo momento andiamo siamo alla campana di meno 3 i piedi per il posto un tipo a 2 suon e la parate meno in questo momento ci si riempi di mano e la parate meno lì i piedi per il posto uno 21 e il posto un punto e la parate meno lì per il posto un punto un punto un punto un punto un punto un punto a cura Il mio amore è una gara di Dio, vai oggi prova! Prova! La mia luna è precisa, vai, vai! Venga bene, mi senta, mi senta, vai! Ehi, guarda, guarda! Se ti fa incazzare! Ascettate! Che giudie! Grazie